Non mi deve guardare così, deve rispettare, c'è un decretto, siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decretto lo faccio rispettare io, quindi se ne devi andare a casa adesso non voglio... Ci ammaliamo, è un'emergenza nazionale, non è una cosa a giocare, non è che so immagini, quelle che arrivano da Milano, da Bergamo, non è che so, è un telefilm. Dovete stare a casa, non avete capito che la gente muore. Se continua questo andazzo, fra una settimana conteremo i morti, conteremo i morti e rischiamo di non avere più posti neanche per ospitare i vostri padri e le vostre madri, chiaro? Grazie. 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 Grazie.